Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui per continuare Dark Souls 2 Quindi continu- Oh, che cazzo? Ancora- Uoah Uoah Eh, cazzo, mi stai su cazzo dopo un po' Ah, è chiuso, ok Allora, sono già andato avanti, per cazzo mia Sono già entrato Qui Devo fare l'ultimo gigante L'ultimo gigante che non spacca nel figlio Wow, voilà Wow, voilà Eh, sì, la merda Oppure è facile È facile È facile Se lo dico io che è facile, ovviamente Ovviamente, se lo dico io, vi dovete fidare, no? Eh, usa sta cazzo di gemma Se ti dico di usarla Tu usala, no? Facile fino a... Eh, ah, ah, ah Ultime parole famose Ultime parole famose Merame Ah, 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 ah Cioè, ma Questo qui non... Me lo sconfiggio più, eh Oh, brava Hai fatto un saltino Piccolo Dai che perdi l'equilibrio Ti fa... Eh, va... Morca dina Anche prima, ragazzi, c'era uno che stava facendo la finta Pensavo che avesse finito di attaccare No, ha dato l'ultimo colpo di spara Cioè, proprio è diventato bastardo sto gioco, eh Ok, ho capito Mi serve un cazzo sto... Mi serve un cazzo mirare in pratica Usare l'agganciamento Mi serve proprio niente Eppure è facile Cioè, è facile Ma io sono deficiente che voglio fare... Troppo velocemente Uff, da... Non va bene Io non mi fido Non mi fido, non mi fido più Vedo che adesso mi incura Ok Ok Un saltino lì Mi vado dietro Ok Minchia, 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 minchia Non mi puoi ammazzare adesso Minchia, il boss è più facile questo Eh, ragazzi Figuriamoci, andiamo dando più avanti Va bene Ok, allora Dobbiamo ritornare indietro allora a questo punto A questo punto sì A questo punto sì Bisogna si apre qua È chiuso Non apre di qua Perfetto Wow Stavo cadendo giù Wow Comunque ragazzi Direi che Per ora il gameplay può finire qui Almeno Voglio fare Un gameplay per ogni boss Quindi ci becchiamo alla prossima Ciao a tutti